sul piccolo cimitero le ombre dei cipressi si allungavano lente candide sepolture squadravano il terreno una lieve prezza montana rinfrescava l'afa d'agosto silenzio quasi perfetto un carriere di rondini a rincorrersi tra le chiome vibranti dei castagni oltre il muro di cinta il disco rosso del sole poco sopra l'orizzonte macchiava l'azzurro qualche nuvola più bassa anticipava d'ombra l'imbrunire imminente un uomo raschiava con cura il marmo della rapide asportava presenze estranee di muschi e muffe testimoni di un progresso abbandono al suolo poche erbacce di velte di fresco nel profumo acre di terra smossa sulla rapide un nome e due date non lontano una giovane meditava accanto a un tumulo tappezzato di fiori vi campeggiavano rose bianche? il lungo stelo avvolto in stagnola appena deposte mirava la foto sbiadita di un aviatore in casacca e copricapo di cuoio come d'uso nella prima guerra il casco assicurato sotto il mento incorniciava un ovale su cui spiccavano il naso affilato e due occhi guizzanti la giovane pareva assorta fissava alternativamente e il vuoto e la lapide piccoli tremolì delle dita minime oscillazioni del tronco tradivano una sofferenza discreta sommessi i moti dell'anima si incarnavano ora in un accenno di sorriso ora in un'espressione languida un leggero corrugarsi della fronte l'aggrottarsi delle cilia e attimi di stupore poi lo sguardo tornava sulle rose e incrociava quello della foto ne seguiva un gesto rapido della mano come a scostare i capelli dalla fronte quindi ancora silenzio assorto la voce del custode rombo minaccioso irruppe inaspettata intimava con imperiosa gentilezza di uscire si stava per chiudere come sorpresa in un sogno la donna reagì e cominciò automaticamente ad avviarsi compresa nell'aura onirica nel rialzarsi con un gesto rapido l'uomo barcollò squilibrò leggermente urtandola appena sorpreso ed amareggiato si scusò apprensivo non si preoccupi fece lei fermandosi quasi senza guardarlo è anche colpa mia ero distratta non mi aspettavo che fosse già così tardi troppo a lungo sono rimasto accovacciato le gambe mi vorrà perdonare spero ma disse girando lo sguardo vedo che siamo gli unici rimasti le giuro non c'è stata intenzione lo so rispose lei notando la faccia pulita niente di male tutto ok anzi la ringrazio ora sono ritornata alla realtà vede lei involontariamente mi ha stato d'aiuto l'avevo notata anzi ero incuriosito da lei l'ho vista commuoversi sulla tomba di Sartori qui conosciamo quella tomba fa parte della nostra comunità ma ormai ha passato tanto tempo San non ha visto nessuno commuoversi così dopo tanto tempo non sarà una sua lontana parente per caso no rispose dimessa non sono sua parente ma in un certo senso è entrato nella mia vita troppo lungo a spiegarle ora la saluto e si atteggiò a riprendere il cammino il custode ripeteva ai presenti l'invito ad uscire la seguo disse lui anche per me è impossibile rimanere proseguirono il gallino scricchiolava sotto le scarpe lei procedeva a passi corti e affrettati lui dietro più lento e solenne uscendo lei accennò col capo un inchino alla tomba e rivolse a tutto il camposanto un breve ultimo saluto poi attraversò il cortile e salì in auto lui percorse a piedi il viale di cipressi verso il paese nel sorpassarlo lo salutò con un cenno della mano e si scambiarono un sorriso la sera stessa paola sarebbe dovuta ripartire per milano ma si era fatto tardi ed era stanca spossata provava desiderio di rilassarsi lasciarsi andare e togliersi quei freni che si manifestavano fisicamente in una lieve contrattura muscolare diffusa l'espressione tesa che ne conseguiva si notava appena perché si sforzava di mostrare serenità se non addirittura gioia di vivere percorse in auto le vie affollate del centro frotte gli turisti della montagna tornavano dalla passeggiata o dalle escursioni per boschi e si predisponevano alla cena non prima di aver fatto il giro dei negozi e gustato un aperitivo con gli amici o chiacchierato nei caffè altri semplicemente sedevano all'aperto in attesa osservando i passanti paola decise che avrebbe trascorso qui la notte si predispose a cercare una camera dove albergare al terzo tentativo gli uscì nell'ardua impresa data la stagione quando ormai disperava trovò bene allora l'indomani si sarebbe rimessa in viaggio verso casa trovò la camera modesta ma dignitosa chiede uno sguardo intorno uscì nel piccolo terrazzo a contemplare il panorama il profilo delle cime era diventato una linea scura frastagliata scolpiva un orizzonte ceruleo fece salire la sua piccola 24 ore sempre pronta in auto con il necessario per la notte da tempo aveva considerato la possibilità di imprevisti nella sua vita e si sedette sul letto tolse le scarpe ne estrasse qualche frammento del ghiaino calpestato che infastidiva il cammino massaggiò i piedi leggermente sudati ricavandone un discreto sollievo quindi lasciò scivolare il corpo che ricadde allungandosi piacevolmente sul letto assaporò un dolce piacere al contatto del guanciale che emanava fragranza di bugato chiuse gli occhi ad ascoltare quanto veniva dal cuore l'immagine di Sartori fu la prima visione lontano dalla tomba la foto le si ingrandiva davanti fino ad invadere tutto lo spazio circostante quel volto mite le dava calma e conforto era il suo angelo restette immobile alcuni minuti in contemplazione poi decise che si sarebbe rinfrescata quindi uscire per confondersi tra la folla anonima del centro una piccola immersione nella vita dopo la visita ai morti si lavò la faccia sciolse i capelli lasciandoli scendere sulle spalle vi scorse qualche striatura bianca che le rammentò la crudeltà del tempo si pettinò con carezzevole languore il massaggio della mano seguiva il pettine blandendo il capo e scendeva dalla fronte all'occipite e al collo fino alle spalle era come una carezza d'amante un po' di rossetto rosa sulle labbra pallide un ritocco alle cilia aggiustò camicetta e gonna un fazzolettino profumato per il sudore ora si sentiva a proprio agio ed era pronta per tuffarsi tra la folla afferrò la borsetta vi infilò le chiavi e andò camminò con l'occhio alle vetrine ma distrattamente scrutava l'aspetto dei passanti la colpivano particolari dell'abbigliamento le coppie malassortite brani di dialogo grottesco emergenti dal brusio di fondo alla fine decise di sedersi al tavolo di un caffè si fece servire un cappuccino e due pasticcini che sarebbero diventati la sua cena aveva appena tuffato il naso nella schiuma quando udì una voce che la salutava non la riconobbe subito non la era familiare che sorpresa non mi aspettavo di rivederla e soprattutto qui da sola sono lieto di questo incontro posso confessarle di aver continuato a pensare a lei ho provato curiosità sin dal primo momento scusi non mi fraintende sono rimasto colpito dalla sua espressione in cimitero l'uomo incontrato in precedenza ora passeggiava con il cane quest'ultimo intanto le si era avvicinato annusandola e stava sollevato sulle zampe posteriori nell'atto di appoggiare il muso nell'incavo del gomito di lei e fiutava i pasticcini sul piattino accanto alla tazza appoggiata sul tavolo si accorta che ha il naso macchiato di latte disse lui giocosamente con un sorriso simpatico che scopriva una bocca sensuale quasi femminile no non fece la imbarazzata correndo prontamente con la mano a cercare una salvietta mi scusi questa dovrebbe essere la mia cena ciò detto prese un pasticcino e lo lasciò cadere tra le fauci del cane buona lady non disturbare la signora sempre invadente tu disse lui con aria di buon aglio rimprovero se fai così non ci inviterà a sedere come vede mi sto invitando a farle compagnia o se preferisce la sto chiedendo di farci compagnia ci sieda pure lo incoraggiò con fare indifferente che nascondeva però un intimo piacere ma non credo di essere un ospite brillante questo lo lasci decidere a me dopo che l'avrò conosciuta meglio ribatte lui esitando intanto mi permetta di presentarmi mi chiamo leonardo munari e da molti anni trascorro qui le mie vacanze estive conosco questi luoghi sin da bambino ci venivo in colonia estiva davvero? e poi è venuto ad abitare qui o si è affezionato e ha continuato a tornare per le vacanze interloquilai con un velo di ironia vede prosegui lui quando uscivamo in passeggiata ogni tanto qualcuno di noi rinveniva tra i boschi un piccolo residuo bellico qualche scheggia di granata qualche bossolo una volta ricordo abbiamo trovato un elmetto austriaco beh per farla breve da allora ho cominciato a ripensare questi luoghi non solo come meta di vacanza ma come fonte di ricordi di conoscenza il pretesto insomma per non dimenticare le sofferenze gli orrori della guerra più tardi mi sono messo a percorrere l'altipiano alla ricerca di tracce di questo passato ancora recente dei caduti italiani della povera gente mandata a morire mi ha aiutato a vivere e a capire ora faccio lo storico mi scusi la sto annoiando con tali discorsi ma volevo spiegarle perché conoscevo la tomba dove lei ha deposto i fiori Paola fu sorpresa affascinata dalle parole ma anche dalla voce melodiosa e dal modo di parlare pacato diretto di lui più che le parole tutto ciò che stava oltre il dire la turbava ma le faceva sentire bene che bello sentirsi bene pensava mentre lui discorreva e paragonava il proprio stato a quello di un bimbo e si addormenta sazio al seno materno non aveva avuto figli non aveva provato la gioia della maternità e ne sentiva la mancanza intanto il cameriere serviva la grappa a Leonardo questi sorsezzava lentamente il rosolio facendo schioccare la lingua in segno di piacere proprio una bella serata credo che per oggi abbiamo vissuto la nostra parte di dolore ora godiamoci questo momento magico assaporava ancora un sorso e si guardava attorno come a non perdere nulla del contesto che contribuiva a rendere speciale quel momento poi tirò il guinzaglio di Lady e la fece accucciare docile ai suoi piedi non mi ha ancora detto il suo nome chiese con tono di rimprovero Paola disse lei esitando mi chiamo Paola e devo riconoscere mio malgrado che lei è una persona originale ci siamo appena conosciuti e mi sembra di conoscerla da tanto perché? non è importante ribette lui è bello questo anche il suo nome è bello e le si adatta sono sicuro che è bella dentro ci rivediamo se c'è simpatia tra noi non lasciamola cadere mi piacerebbe esserti amica Leonardo lo sorprese lei chiamandolo improvvisamente per nome e dandogli del tuo ma sono di passaggio e domani parto per Milano non so se ci rivedremo non ti rivedrò allora rispose Leonardo non so disse lei turbata ingogliò in un boccone l'ultimo pasticcino rimasto prese la borsetta dal tavolo e chiamò il cameriere per il conto nel gesto di andarsene lascia offro io volentieri propose lui però promettimi che ci rivediamo se ritornerai nelle prossime settimane mi ritroverai qua e sai che mi farà un grande piacere Paola si alzò e si avviò lanciando a Leonardo un ultimo sguardo carico di nostalgia era turbata molto turbata il suo orgoglio non le permetteva di darlo a vedere aveva intuito un mondo ma non voleva ammetterlo troppe cose le si ribellavano dentro troppo da capire da collegare si avviò rapidamente verso l'albergo si era fatto sera poca gente ora sulla strada nelle case e nei ristoranti si cenava salì rapidamente a piedi le scale entrò in camera si tolse di scatto le scarpe lanciandole lontano si svestì in fretta e si lasciò cadere sul letto di peso il suo angelo incarnato nell'immagine di Sartori le comparve ancora davanti sempre più grande immenso e bellissimo e si sentì protetta diventò piccola piccola rannicchiandosi sul letto stringendosi le ginocchia tra le braccia e così si addormentò lasciandosi cadere in un sonno profondo e ristoratore il sonno di lui invece non fu affatto ristoratore si addormentò e si risvegliò tante volte durante quella notte e spesso nel bel mezzo di un sogno nei periodi di veglia riandava ai brevi momenti dell'incontro alle parole che avrebbe voluto dirle ma che non aveva osato pronunciare e si rimproverava per non aver saputo metterla alle strette e costringerla a lasciargli un recapito un cellulare che gli permettesse di rintracciarla non conosceva niente di lei era sposata aveva figli dove viveva qual era il suo lavoro nessuna informazione per collocarla in uno spazio in un contesto impossibile immaginarla nella quotidianità che idiota che sono si rammaricava della sua timidezza e della sua scarsità di iniziativa e ne attribuiva la colpa all'educazione ricevuta che non lo aveva aiutato a trovare un sufficiente grado di sicurezza ciò soprattutto nei rapporti con l'altro sesso per cui era sempre in difficoltà specialmente nelle prime fasi dell'incontro quando è più importante esibire la parte esteriore di sé mostrarsi intraprendenti e risultare brillanti era impacciato dalla sua timidezza gli amici avevano sempre più successo con le donne lui necessitava di tempo per sfruttare le proprie doti doveva scendere in profondità e questo richiedeva confidenza per arrivare alla quale era necessario superare gli ostacoli iniziali dell'incontro lei avrebbe dovuto aiutarlo a trarsi di impaccio prendere l'iniziativa facilitargli le prime mosse come in una partita a scacchi l'apertura risultava decisiva se favorito nel liberare i suoi pezzi solo poi con questi in campo avrebbe potuto giocarsi la partita al meglio quel giorno non si era sentito favorito a sfruttare l'opportunità di quell'incontro speciale e ora lo tormentava il non aver capito l'effetto prodotto sull'altra cercava di reinterpretare i più piccoli segnali e ripercorreva con la mente ripetutamente i brevi momenti come la sequenza di un film alla moviola onde a individuare anche minimi segni che gli confermassero la possibilità di un seguito una volta si svegliò nell'incubo di una caduta da uno strapiombo era scivolato su un appiglio trascinando con sei compagni di cordata in un altro sogno era un chirurgo nell'atto di compiere un difficile intervento al cuore ma si sentiva insicuro non osava ma doveva operare e la sala operatoria diventava quasi un enorme container in un ospedale da campo il paziente da operare era su una barella sporco di sabbia sull'addome e sul torace e lui la sportava con le mani solo più tardi riacquistava tutto il coraggio e si produceva nell'intervento con successo il paziente guariva si svegliava ma non riusciva più a parlare Paola fu svegliata dallo squillo del telefono dalla portineria la invitavano ad affrettarsi a lasciare la stanza rapidamente si rimisa in sesto e in mezz'ora era già al volante diretta verso casa aveva voglia di cantare e le uscivano dalle labbra melodie di De André mandate a memoria si attese una sigaretta e aspirò voluttuosamente le prime boccate quando inforcò l'autostrada si lasciò andare a una guida tranquilla e rilassata a casa tre ore più tardi la colpì il disordine viveva in un appartamento non piccolo ma fittamente stipato di libri dischi videocassette oggetti vari raccolti nei viaggi a stento riusciva a collocarli così si ricoprivano di una polvere densa difficile da asportare che le produceva alla vicinanza un pizzicore al naso per una forma di allergia il suo primo impulso fu quello di attivarsi pulire rimettere ordine ordine nella sua casa il suo secondo vestito e ordine anche dentro di sé voleva trovare una chiave di lettura della sua vita così come l'aveva trascorsa fino a quel momento e meditare sulle scelte su quanto di strano vi percepiva voleva ripensare ciò che aveva fatto e che stava ancora per intraprendere perché una decisione importante la stava attendendo aspettava la definizione della pratica del suo divorzio e aveva già programmato un secondo matrimonio cominciò dalla camera dove spalancò le finestre del balcone ed espose al sole lenzuola e coperte ripose sull'armadio e i vestiti sparsi ovunque spolverò il comodino dove stava riposto il secondo volume della recherche di Proust da due mesi aveva intrapreso la lettura del capolavoro aveva cominciato dal primo volume e ora leggeva il secondo all'ombra delle fanciulle in fiore presi in mano il libro e lo soppesò poi lo sfogliò rapidamente come un giocatore manipolò un mazzo di carte e si trattenne per un po' a riflettere sul progetto da tempo accarezzato di un viaggio in Francia da sola a visitare le città d'arte e i luoghi proustiani l'itinerario ambito comprendeva Carcassonne Lourdes Rochemadour Limoges Combré Chartres immaginò quei luoghi sulla carta e rievocò alcune pagine delle sue letture quindi ripose il volume sul comodino attenta a non far cadere il segnalivro apprezzava molto quell'opera e proprio la lentezza della narrazione alla quale all'inizio aveva un po' stentato ad adattarsi era ciò che ora l'affascinava di più insieme alla capacità sorprendente di introspezione dell'autore non siamo più abituati a leggere libri del genere rifletteva ma forse non è solo colpa nostra poi ampliava la considerazione anche su altre forme d'arte il cinema per esempio e considerava come negli ultimi decenni il ritmo della narrazione fosse cambiato come i giovani ormai avessero un cervello molto più abituato a raccogliere rapide sequenze di immagini ad un ritmo più frenetico del racconto complice forse il linguaggio pubblicitario e come si fossero dovuti adattare a stimoli visivi e narrativi sempre più forti e violenti da ciò la difficoltà di godere della lentezza e delle emozioni sottili velate che caratterizzavano maggiormente il passato conoscere era la sua passione una vita mille vite non basterebbero a capire la conoscenza si diceva ed era convinta che l'uomo si dovrebbe proporre di diventare sempre meno intelligente ma sempre più ragionevole tanti le avevano fatto i complimenti per la sua intelligenza ma questo lo viveva quasi come un'offesa avrebbe preferito sentirsi dire quanto sei ragionevole perché diceva l'intelligenza la possiede anche un computer anche un animale che cerca il cibo la ragione invece è il dono che Dio ha dato all'uomo e di questo dobbiamo andare fieri quando sappiamo farne uso l'intelligenza era stata la molla secondo lei che aveva portato al progresso della tecnica e la tecnica aveva portato l'uomo a disumanizzarsi prova ne era che diventava facilissimo uccidere premendo un bottone senza essere consapevoli del male prodotto e il ricordo andava alla guerra in Iraq e alle bombe intelligenti una volta invece il nemico si doveva abbattere a mani nude e il sangue schizzava imbrattava e contaminava l'assassino costretto a meditare sul suo gesto e a confrontarsi con la propria coscienza ora abbiamo perso molta umanità pensava nemmo diventati forse meno animali ma troppo intelligenti noi occidentali non sappiamo più uccidere con le mani nude solo sulla razionalità possiamo sperare sulla nostra capacità di dare senso e valore una priorità a tutto ciò che facciamo e così si proponeva di essere razionale nei comportamenti ma spesso si trovava in conflitto con l'emotività la realtà non andava sempre nella direzione da lei desiderata per cui si sentiva fondamentalmente sola incapace di condividere le cose importanti che non interessavano chi le stava vicino i suoi sentimenti venivano spesso sottovalutati o non presi in considerazione e questo produceva in lei l'effetto ambiguo di un isolamento in un proprio mondo interiore e nello stesso tempo l'eccessivo disperato bisogno di cercare punti di riferimento qualcuno da amare in modo totale completo il carattere le si era formato in modo tale che aveva imparato a dar retta alle sue convinzioni e a seguire le ragioni del cuore anche quando queste andavano contro il senso comune durante una vacanza in istria sulla piazza di pirano aveva trovato scritta sulla patera di un palazzo veneziano del cinquecento una parola lassapurdir informandosi sulla sua storia aveva scoperto che il signorotto locale aveva avuto una relazione con una giovane fanciulla per cui in paese si vociferava lui allora aveva fatto incidere quella scritta a significare lasciateli dire tanto l'importante è che noi ci amiamo da allora più nessuno si oppose a quella vicenda d'amore ecco anche lei era orgogliosa di seguire la voce del suo cuore a discapito delle convenzioni e di quanto altri potessero dire o commentare e non si faceva condizionare nelle scelte che riteneva importanti per la sua vita ora viveva a milano ma non sarebbe rimasta lì a lungo non appena avesse sposato l'uomo che amava erano entrambi in attesa della sentenza di divorzio sarebbe andata ad abitare vicino al mare con lui già da tempo aveva fatto un piano per la futura vita insieme aria nuova diceva bisogna ricominciare e un posto nuovo dove vivere lavorare avrebbe aiutato l'impresa giorgio ormai era in pensione da due anni e desiderava un cambiamento ma aveva abitudini ben radicate la grande passione per il mare una intensa vita sportiva un uomo che va verso la sessantina non modifica facilmente il suo standard di vita si erano già dati da fare in cerca di una nuova casa e avevano fatto progetti sull'arredamento tenendo conto delle esigenze di entrambi e di quanto avrebbero dovuto farci entrare giorgio possedeva già una seconda casa la sua grande barca o per meglio dire il suo yacht di 40 piedi che teneva ormeggiato durante l'anno nel porticciolo vicino a trieste impiegava molto tempo nella sua manutenzione e in piccole uscite in mare la barca era il suo principale interesse e a lei dedicava gran parte delle preoccupazioni pensieri e progetti paola ora attraversava un momento particolare della sua esistenza da parecchi anni viveva il presente quasi temendo il futuro e in un certo senso rinnegando e rimuovendo il passato ma proprio il passato tornava ora prepotentemente a insinuarsi nella sua esistenza e il pensiero era rivolto spesso indietro a rievocare momenti cruciali e scelte fondamentali compiute nella necessità di diventare la persona di adesso d'altronde quando immaginava il futuro pure in un'apparente convinzione che le avrebbe portato finalmente uno stato di felicità sentiva dentro di sé che nella scelta imminente sposare Giorgio e dedicargli la vita c'era un fondo inconfessabile di incertezza non era intimamente convinta che fosse proprio questa la scelta più finalizzata a realizzare il massimo delle sue aspettative per il futuro le aveva sempre rinviata nell'attesa di tempi finalmente migliori si trovava sola in casa Giorgio era partito il giorno precedente per il friuli ad allestire ed armare la barca che le avrebbe dovuti accogliere in un'ennesima cruciera in Adriatico e lungo la costa d'Almata i luoghi dove entrambi avevano radici Giorgio era nato in Istria anche la madre di lei era istriana Paola aveva deciso di non seguirlo non condivideva con lui questa sfrenata passione per il mare e la barca la considerava tanto faticosa e avvertiva in essa più gli aspetti negativi legati al pericolo alla fatica alla noia non era altrettanto sportiva di lui che aveva percorso in lungo e in largo il Mediterraneo spingendosi fin sulle coste della Grecia e della Turchia ed aveva navigato i Caraibi il suo amore e la passione per quell'uomo l'avevano per così dire costretta a prendersi la patente nautica e ad accompagnarlo nelle sue crociere in due senza altro equipaggio a bordo si richiedevano un lavoro e una fatica in mani ciò nonostante vi si assoggettava non senza sforzo e non senza fare in un certo qual modo violenza a se stessa fra tre giorni finalmente sarebbe partita per il viaggio in Francia anche lei a modo suo avrebbe condotto una ricerca nel proprio tempo perduto ciò le occupava la mente in cui si affollavano sia pensieri pratici legati ai preparativi dell'organizzazione del viaggio sia la programmazione delle tappe del percorso lo studio delle località e i monumenti che doveva assolutamente visitare sia riflessioni sul senso di questo viaggio e aspetti del suo passato che avrebbe in qualche modo rivisto riesaminato sottoposto alla lente di ingrandimento della memoria analitica e della coscienza critica voleva vedere più chiaro dentro se stessa fino a questo momento la molla che l'aveva spinta ad agire era stata l'amore l'amore per l'uomo al quale aveva dedicato tutta se stessa e non riusciva a capire se e quanto era ricambiata questo viaggio era stato fantasticato da settimane ed ora finalmente si stava realizzando il sogno sarebbe partita sola sia perché non aveva un'amica con cui condividere tale esperienza sia perché voleva dedicare a se stessa e il tempo e le emozioni che ci aspettava di ricevere mancavano ancora tre giorni e li avrebbe trascorsi qui nel suo piccolo appartamento da sola senza la presenza rassicurante ma dispersiva di Giorgio col quale in realtà nel corso degli anni aveva cominciato a non comunicare più così bene la convinzione del suo amore disperato per lui era rimasta invariata ma avvertiva in questo momento un sottile piacere alla solitudine o meglio le sarebbe piaciuto avere qualcuno che l'ascoltasse a fondo che sapesse cogliere i minimi turbamenti dell'animo suo che sapesse interagire con lei e condividere le emozioni ma ammetteva che questo non era possibile la sua vita era Giorgio e anche il suo futuro era lui questo magnifico cinquantottenne pieno di energia vitale che dimostrava dieci anni di meno e che le aveva cambiato l'esistenza aveva lasciato tutto per lui il suo lavoro di musicista insegnante di musica una carriera che non aveva neppure tentato e che invece la sorella aveva percorso con successo aveva lasciato il marito sposato che era ancora giovane troppo giovane con questo dopo un primo breve periodo di passione era diventata solo un'amica mancando tra loro il desiderio reciproco quella forza magnetica che attira i corpi e li fonde in un'unica sostanza il fuoco si era spento dopo solo pochi mesi perché la personalità e l'intelligenza di lei lo mettevano a dura prova e lui sentiva di non avere le risorse per starne al passo la capacità di seguirne le inclinazioni e le fantasie si era chiuso in un mondo dal quale non traspariva più nemmeno il desiderio fisico aveva poi dovuto sostenere per Giorgio le critiche della propria famiglia che le rimproverava di essere l'amante di un uomo già sposato molto più anziano di lei e con il quale non poteva avere un futuro almeno così come era stato immaginato per lei sempre per Giorgio aveva poi dovuto lasciare i luoghi dove aveva iniziato la sua professione e dove era vissuto si era dovuta adattare al ruolo di amante in una città come Milano che le faceva sentire ancora più piccola e anonima si era cercata una nuova attività che le permettesse di conservare il tempo necessario da dedicare a lui accettando quindi la precarietà e l'insicurezza in cambio di un minimo di autonomia economica questo lavoro si svolgeva ufficialmente in un'azienda di telefonia mobile alla Customer Care ma da esso non traeva nessuna gratificazione era freddo e anonimo un part time dal quale ricavava soltanto la gratificazione economica di cui necessitava e il riempimento dei voti del suo tempo altrimenti insopportabili quando Giorgio lavorava e non era con lei quella sera riordinò e spolverò i libri perché aveva bisogno di sentirsi attiva fare qualcosa di utile e nello stesso tempo riflettere con leggerezza ogni volta che il pensiero si inceppava in un nodo più difficile da sciogliere trovava utile distrarsi così poi decise di prepararsi qualcosa di buono per cena si fece una piccola scorpacciata di nutella che le piaceva tanto e la rendeva pagata e più allegra almeno per un po' accese lo stereo e vi infila uno dei suoi cd preferiti le variazioni Goldberg di Bach suonate al piano da Glenn Gould quando si sentì veramente a suo agio ne venne voglia di parlare con qualcuno e allora fece qualcosa che aveva iniziato per gioco pochi mesi prima e aveva scoperto che le procurava divertimento e curiosità accese il computer e cercò l'accesso nella chat preferita aveva parlato con Giorgio di questo passatempo e anche lui si era incuriosito tanto che talune volte avevano chattato insieme per gioco perché la sua opinione fosse importante condividere lei si era creata alcuni amici in chat con cui parlava volentieri uno in particolare amante di Proust e di discorsi pregni di filosofia col quale unico aveva parlato per ore ed ora sentiva un grande feeling per lui altri ne aveva conosciuti ma nessuno come questo così aveva abbandonato tutti gli altri per incontrarsi virtualmente con lui solo ammettendo come suo difetto ma anche come nota positiva del carattere esclusività dei legami che instaurava era il suo disperato bisogno di comunicare che le aveva procurato in precedenza anche degli inconvenienti se contattava donne la consideravano lesbica se contattava uomini pensavano volesse sesso da qui la difficoltà nella ricerca di un rapporto umano e lo aveva trovato finalmente nel filosofo al quale si era poi dedicata compassione e amicizia giudicava il pc uno strumento meraviglioso perché è l'uomo solo l'uomo con il suo libero arbitrio che ne decide l'uso uno strumento dalle grandissime potenzialità e la rete una fonte di conoscenza insuperabile se usata in modo adeguato e la conoscenza l'informazione che la rete rendeva possibili era un diritto di tutti che si può ottenere in modo democratico senza passare attraverso il filtro spesso mistificatorio e capace di manipolare le coscienze degli organi di stampa e delle televisioni non si considerava affatto bigotta date anche le scelte di vita e quindi rispettava anche coloro che in chat cercavano sesso o altro ma lei si aspettava semplicemente amicizia e perché no magari di poter dare chissà un giorno un volto alla persona con cui aveva parlato considerava importante la reciprocità le due parti dovevano essere consenzienti e riferendosi a chi cerca sesso e non solo in chat se entrambi sono d'accordo pensava tutto è lecito finora non aveva mai conosciuto nessuno delle persone incontrate in chat aveva una propria opinione sul virtuale ed era convinta che non si possa avere la consapevolezza di cosa sia reale in senso filosofico ammetteva l'esistenza di tante realtà e la chat faceva parte di una di queste facce possibili del reale quindi chi sta bene con se stesso riesce ad essere positivo anche nel virtuale non comprendeva nella sua breve esperienza chi giocava ad essere uomo poi donna poi metteva chissà quale altra maschera sapeva che tutto era possibile ma non lo comprendeva perché lei non sentiva l'esigenza di costruire una donna diversa un'identità distante dalla sua ciò nonostante si sentiva tollerante verso il prossimo ma per lei era importante la sincerità se qualcuno le avesse chiesto esplicitamente del sesso virtuale si sarebbe scandalizzata di meno che non si avesse scoperto magari dopo mesi che la persona che pensava uomo era in realtà una donna le avrebbe mentito nell'immagine che si era creata di lui si sarebbe sentita ingannata defraudata continuava comunque a considerare la chat come un sano divertimento e il suo intuito che aveva sempre seguito non l'aveva mai tradita finora quella sera si era connessa con la segreta aspettativa di incontrare il filosofo e di conversare con lui sentiva il desiderio della sua compagnia non aveva visto però comparire il suo nickname nella stanza virtuale dove era solita attenderlo e così cercò lei tra gli altri nick uno che la incuriosisse sapeva che anche giorgio qualche volta si collegava quando si trovava fuori casa e di solito tendeva ad usare dei nomi che richiamavano la sua passione per il mare la colpì un nick che aveva a che fare con il mare e lo cliccò con la sottile convinzione di trovarvi Giorgio e di scoprirlo a sua insaputa provava la curiosità di sapere cosa avrebbe potuto raccontare ad una donna appena conosciuta come si sarebbe comportato con lei così maturava l'intenzione di non rivelarsi subito al suo messaggio rispose invece un musicista presunto tale che la mise presto a proprio agio perché avevano subito scoperto interessi e conoscenze comuni sensibilità fine e non solo ma anche frequentazioni comuni e fu facile quindi iniziare una conversazione in cui scoprire gradualmente una complicità che non si limitava solo a questo si sentiva capita ciò la stimolava a confidarsi e così gli parlò dei suoi studi musicali del suo diploma in pianoforte in conservatorio della sua fornitissima discoteca accennarono alle conoscenze condivise nel campo musicale commentò e parlò dei luoghi del nord est dove lei era andata girando le piccole città di provincia dove aveva insegnato dopo il diploma in pianoforte poi si presentò e gli confidò il prossimo matrimonio con un uomo per il quale aveva lasciato tutto era rilassata parlava con una persona pacata che la stava volentieri ad ascoltare e che non la interrompeva a proposito come altre volte le era successo sentiva che si poteva fidare ed aveva voglia di ripercorrere la sua vita dall'inizio non tutta ma gli episodi che le avevano turbata con qualcuno che la sapesse ascoltare magari guidare e consigliare e che si dimostrasse disponibile a farlo saggiò il terreno per accertarsi che fosse la persona adatta continuò per un po' a parlargli di Giorgio e quando si sentì chiedere se pensasse al suo futuro come ad un andar per mare rispose con un perentorio no e gli raccontò della brutta esperienza che avevano avuto l'anno precedente in barca quando lei e Giorgio erano stati sorpresi da una violentissima bora nel golfo del Quarnaro la barca era stata danneggiata il suo compagno era caduto in mare e lei era riuscita a recuperarlo da sola aveva immediatamente poggiato per evitare di prenderlo sotto l'elica e poi gli aveva lanciato un salvagente assicurato ad una cima lui aveva fatto il resto essendo una persona eccezionale il mare era grossissimo come mai visto prima e lui era riuscito a riemergere dalle onde ancora non riusciva a capacitarsi di come il miracolo avesse potuto avvenire e lui fosse sopravvissuto in qualche modo le doveva la vita è istriano diceva ha attraversato l'oceano conosce il Quarnaro come le sue tasche ma ciò nonostante il mare lo ha tradito a lei non piaceva andare per mare lo faceva solo per amore sì solo per amore ed era una bella fatica un rapporto va coltivato come una piccola piantina diceva con dovizia di cure il suo interlocutore le rispondeva che invece a lui mancavano continuità e iniziativa e lei rispondeva l'importante è che qualcuno dia il là poi ci si accorda lei si sarebbe volentieri accordata con un violoncello li impiangeva di non averlo scelto come strumento in conservatorio amo molto la sua estensione diceva è la voce umana per antonomasia e rammentava di aver conosciuto un violoncellista in chat dall'altra parte le veniva detto che prima ancora del violoncello la viola da gamba e la viola d'amore riproducono la voce umana forse con maggiore languore hai provato un po' di tutto ribatteva l'interlocutore nel seguito della conversazione e lei pronta come Ulisse ogni uomo è Ulisse Giorgio diceva otto anni fa che ero Calipso poi ha cambiato idea Nausicaa poi non contento analizzando meglio Circe è andato avanti un anno intero e ora non ha più dubbi Penelope non mi ha più lasciato partire ora tesso e basta chi l'ascoltava in questo elenco di personaggi percorso a retroso da Calipso a Penelope dalla donna maga incantatrice ma libera alla donna moglie e madre sottomessa e fedele come veniva concepita allora rifletteva intanto come il suo ruolo fosse cambiato nel tempo per Giorgio lei continuava ho sempre pensato soprattutto dopo aver letto di Crescenzo che Ulisse fosse un gran cacciapalle ma forse Ulisse è l'uomo in tutta la sua umanità intesa come debolezza parlava di Giorgio con grande ammirazione mitizzando quasi l'amore e la sua dedizione a lui chi la leggeva intuiva qualcosa di vagamente eccessivo in questo ma era troppo presto per farsene un'idea precisa e rimaneva in attesa si era fatto tardi quella sera ed era l'ora di andare a dormire si diedero appuntamento per il giorno successivo allora si propose avrebbe raccontato di quello strano percorso che aveva seguito la sua vita si salutarono trascorse quella notte svegliandosi alcune volte nel corso di un incubo ebbe la sensazione di precipitare da un aereo mentre sorvolava un deserto roccioso ripensò nei momenti di veglia alla sua escursione sull'altopiano e a quel uomo dolce che aveva incontrato e provò uno strano sentimento di nostalgia per quel luogo e per quel momento pensò che dipendeva solo da lei la possibilità di rivederlo che se avesse voluto sarebbe toccato a lei prendere l'iniziativa altrimenti tutto sarebbe scomparso definitivamente nella sua vita così rapidamente come si era affacciato si sentiva investita da una responsabilità nei confronti del suo futuro ma poi in definitiva chi era costui cosa rappresentava per lei se non appena un po' più di nulla conosceva solo il suo nome aveva visto il suo cane un accenno a quello che era un interesse che lo manteneva attivo nient'altro ma i suoi occhi e quella bocca che accennava soltanto a un sorriso melanconico non riusciva a toglierli dalla mente e vi riandava ogni volta che il sonno lasciava spazio a un ritorno della coscienza vigile il giorno successivo trascorse poi senza che nulla di significativo modificasse la sua routine e nei preparativi del viaggio che stava per intraprendere sapeva dell'appuntamento serale e di quanto si era riproposta di fare con il suo nuovo interlocutore di chat per cui aveva ricostruito dentro di sé il passato cercando di collegarlo con un filologico da poter ricordare in modo tale da renderlo comprensibile ad una terza persona e ciò non era facile perché tante cose erano oscure a lei stessa non si era data però eccessiva pena nel far ciò si sentiva sostanzialmente leggera e a ciò contribuiva anche l'incontro del giorno prima in cimitero arrivò finalmente il momento di connettersi e non fece fatica a rintracciare Nicola con cui si era data appuntamento prima di mettersi in contatto con Nicola aprì al computer la foto di lui che si era fatta mandare la sera precedente e lo osservò con attenzione non si lasciò sfuggire nessun particolare per quanto si può ricavare da un'immagine giunta attraverso la rete quindi lo contattò lui fu subito disponibile a digitare con lei lo salutò gli fece sapere subito dopo di aver osservato la foto e di averne ricavato l'immagine di una persona interiormente sensibilissima che forse aveva sofferto troppo ma i tuoi occhi sono velati di un sorriso e questi parlano senza dubbio della persona in tutta la sua essenza deve essere un uomo tranquillo ma che quando si arrabbia è meglio tenere lontano e si chiude forse anche per un giorno e più in se stesso ti sembrerà strano rispose lui ma credo che non mi arrabbio quasi mai non intendo arrabbiarsi veramente non necessariamente penso che non riesci a smaltire subito i tuoi dolori anche i piccoli devi essere ipersensibile continuò ma quante cose hai capito scrisse lui come fai mi sono permesse con molta invadenza degli sproloqui perdonami ho osservato i tuoi occhi sai leggere così a fondo negli occhi ti sei messa al microscopio magari ho detto delle cretinate lo so eppure i tuoi occhi mi hanno comunicato questa sensazione gli occhi sono lo specchio dell'anima già bisogna averne una però ribatte lui hai venduto forse la tua anima al diavolo chiese lei chissà forse la mia se l'ha già presa se esiste un diavolo quel diavolo siamo noi scrisse allora ci rubiamo le anime tra di noi fece Nicola in amore sì però non dico questo rubare è illecito e non è il termine esatto lo sostituirei con prendersi mi viene in mente Don Camillo io non credo al diavolo come figura tangibile credo ad una forza negativa che viene dall'uomo l'anima penso sia una questione intima si può percepire l'anima di una persona io ho sempre amato guardare le persone negli occhi ma spesso questo mio atteggiamento ha provocato chiusura è difficile che due interlocutori si guardino a lungo negli occhi solitamente gli sguardi anche nelle conversazioni vis-a-vis tendono a cercare impercettibilmente delle vie di fuga come se lasciarsi guardare negli occhi ci fosse il pericolo di perdersi ma nella comunicazione verbale interagiscono anche gli sguardi un individuo può essere in grado di affermare una cosa ma il suo sguardo ne può far capire un'altra molti si sono avvicinate alla tua anima chiese lui tutti quelli che si sono messi in sintonia con me ed io con loro comunque molto pochi come Giorgio e tu sei riuscita ad avvicinarti all'anima di molti altri fece ancora Nicola forse troppo al punto di soffrire per gli altri e di avvertire molte volte un senso di impotenza mi è molto più facile capire che essere capita e non ne vado certo fiera cosa ti fa soffrire di più nella vita chiese ancora Nicola l'incomunicabilità la cattiveria la cattiva intenzione di ferire per il gusto di ferire la stupidità posso anche tollerarla in quanto frutto dell'ignoranza ma non la cattiveria soffro nel vedere le persone lottare per il dio denaro farsi del male litigare per cose banali la vita è un segmento mi viene in mente Nanni Moretti in aprile quando nella scena finale tira fuori il metro e fa un parziale consuntivo di quanto gli resta ancora da vivere già siamo qui una manciata di anni quanto rispetto all'universo almeno mi piacerebbe vedere più consapevolezza veder capire gli errori ripararli ma perché facciamo così fatica a comunicare se in fondo abbiamo tutti gli stessi bisogni le stesse esigenze e siamo poi così indispensabili gli uni agli altri per il semplice motivo che dichiariamo a parole tutti quei bei sentimenti ma quando si tratta di investire con le nostre azioni non tutti abbiamo voglia e forza di metterci in gioco aprirsi significa essere nudi di fronte al sole che sorge e non tutti hanno il coraggio di denudarsi lo desiderano ma è il desiderio del cervello invece la volontà è del cuore quando capita anche a noi di avere discussioni io tendo subito a riappacificare il tutto proprio illustrando a Giorgio la possibilità che lui esca arrabbiato da casa senza aver fatto pace sarebbe terribile che gli succedesse qualcosa senza aver fatto pace e le inibizioni dentro di noi interloqui Nicola sono il prodotto di una sofferenza subita ma che noi contribuiamo ad ampliare rimandando sempre la possibilità di cominciare a cambiare da subito sei cambiata tante volte nella tua vita certamente il dubbio il dubbio è sinonimo di evoluzione guai a non dubitare alla larga da chi è certo io conosco penso dunque sono ma anche amo dunque sono è un titolo di Sibilla alle ramo sembra che l'amore per te sia il fondamento di tutto amore anche per se stessi e quando ami te stesso allora sei in grado di amare il mondo intero nel senso non di egoismo ma di conoscenza per esempio quante volte si litiga anche nel lavoro come negli affetti per equivoci o falsi pensieri o false proiezioni per non aver comunicato a sufficienza per non aver ammesso i propri errori ammettere un errore è indice di malattura maturità a volte non serve a nulla poi dire hai sbagliato tu ho sbagliato io cosa importa davvero la voglia di capirsi e non voler decretare di chi sia la colpa ma stabilire che ciò che più si vuole al mondo è stare bene capirsi mi chiedo come deve essere il vivere con te com'è vivere con te chiese Nicola proverò a risponderti usando le parole di Giorgio faticoso a volte molto faticoso ma terribilmente bello lui a modo suo dichiara di non avere mai avuto un rapporto così non era abituato ora non potrebbe più a suo dire farne a meno è faticoso starmi dietro sempre per usare le sue parole per la mia richiesta di amore continua la mia disponibilità totale non nascondi una certa insicurezza chi non ha insicurezza si assicuri di dover morire questo sì il bisogno d'amore naturale non significa insicurezza Giorgio quando eravamo clandestini e tornava il venerdì dalla moglie mi lasciava in una piazza nell'inconscio ho portato avanti per molto tempo l'immagine di lui che se ne andava a bordo di una tema a verde bottiglia ed io in lacrime ogni venerdì in mezzo alla strada per esorcizzare e superare se non altro quell'immagine una volta mi sono seduta per un'ora al tavolino di un bar prospicente quella piazza e ho osservato a lungo il punto dove lui mi lasciava e mi sono detta è finita tutto finito passato tuttavia in me anche se impercettibilissimo ormai dimora un filo di inquietudine che non equivale necessariamente all'abbandono deliberato da che cosa ti distacchi la incalzò Nicola che so penso che gli possa succedere qualcosa sono apprensiva ora che è partito in barca non posso fare a meno di preoccuparmi con lui cerco di alleggerire ma lui avverte ugualmente la mia preoccupazione mi sembra che l'unico punto di riferimento importante nella tua vita sia lui o meglio solo lui sospettò Nicola sì è così sento che se dovesse morire lui per primo io lo seguirai in breve tempo perché il mio cuore non reggerebbe l'amore lo si incontra solo una volta nella vita se si è fortunati io mi ritengo fortunata anche se parte di questa fortuna della nostra fortuna è il risultato di un enorme sforzo comune di un enorme investimento di energie Giorgio e Dio non siamo lo scalatore solitario siamo incordata con tanto di sicura la vita stessa è amore secondo te è vero che è faticoso vivere con te me lo sono sentita ripetere talmente spesso che ho quasi finito col crederlo sì penso che sia in parte vero e ne soffro invadi la vita dell'altro no siamo invasi a vicenda ed è meraviglioso piace ad entrambi Giorgio quando dice che è faticoso sorride è tutto relativo per me non c'è fatica Giorgio a volte lo afferma ma è felice usa la parola terribilmente bello perché dall'idea della consapevolezza del rischio di perdere qualcosa di troppo bello rischio che si contrasta annaffiando la piantina solo con lui ho preso la consapevolezza di essere a metà io e lui siamo l'unità Giorgio è solo Giorgio e per sempre Giorgio nella vita per tutta la vita e oltre la vita non pianifico nulla proprio nulla però cerchiamo di respirare insieme tutto qua comunque sono abituato allo scetticismo degli altri il rapporto di Giorgio con la moglie non funzionava sin da prima di conoscermi solo che lui ha faticato ad ammetterlo quando un rapporto funziona niente e nessuno lo può distruggere nemmeno la morte perché continua nel ricordo Giorgio mi dà ragione e mi dice che solo con me ha conosciuto il vero amore anche Nicola le parlò per un po' delle sue vicissitudini e lei lo ascoltò con attenzione pronta però a raccogliere quegli spunti che la riportavano alle proprie dinamiche psichiche tua moglie se ti ama ancora perché non si dedica a te gli chiese lei ad un certo punto invece di dedicarsi a un altro lavoro anche se non necessario io non lavorerei mai se il mio lavoro penalizzasse Giorgio amo lavorare per realizzarmi per un mio piccolo gusto personale per stare con gli altri ma se questo dovesse far star male lui smetterà immediatamente mia sorella sta girando il mondo a dare concerti io non lo farei mai comunque Nicola i soldi non sono tutto ho conosciuto persone ricche è una persona più è ricca e più vive male te lo assicuro anche solo per la paura di perdere ciò che ha cambiarono argomento e gli raccontò di essere state due giorni prima sull'altipiano a trovare una persona a lei molto cara il suo angelo nato in uno dei comuni il 16 maggio del 1897 Nicola le chiese se l'aveva conosciuto e Paola rispose di aver parlato con lui di aver sentito la sua voce Nicola si dimostrò incuriosito e Paola gli fece intuire che c'era una connessione tra Giorgio e la vicenda che la riguardava investita da una intensa commozione cominciò a raccontare scrivendo di getto quello che le veniva in mente la storia di Paola tutto incominciò nel 1988 allora avevo 19 anni e non stavo certo vivendo una situazione serena mi diplomavo al conservatorio mio padre quell'anno andava e veniva dall'ospedale ed era costantemente malato in modo grave non lavorava mia madre passava gran parte del suo tempo ad assisterlo vivevamo una contingenza economica difficile abitavo con la mia famiglia fin da bambina avevo studiato musica privatamente ed ora stavo per concludere amavo la musica classica ascoltavo spesso dischi nel mio vecchio stereo Giorgio in quell'anno sposava la sua seconda moglie in ottobre del 1988 mentre ascoltavo un vecchio 33 giri di Mozart mi accorsi ad un tratto che il volume dell'apparecchio andava scomparendo mi avvicinai per capire cosa succedeva e constatai che il disco continuava a girare solo che al posto della musica si producevano strani rumori di sottofondo rimasi in attesa e ad un certo punto senti una voce orrenda molto profonda e grave dal tono metallico che cominciò a pronunciare parole prima incomprensibili poi più chiare individuai distintamente che mi diceva Giorgio è per te sì proprio queste parole Giorgio è per te ti sta cercando è difficile da spiegare ma io sentivo la voce fisica anche se percepivo quel suono come il risultato di una comunicazione mentale come qualcosa che contemporaneamente veniva da dentro di me rimanevo sconcertata perché non mi rendevo conto di che cosa mi stesse succedendo era come se un'altra mente riuscisse a risuonare al mio interno mi trasformavo in una sorta di ricetrasmettitore diventavo insomma uno strumento attraverso il quale un altro si esprimeva e dava messaggi precisi che io però riuscivo a sentire e a decodificare distintamente così sentii anche che si trattava di un pilota che era vissuto nel periodo fra gli anni venti e trenta lo di pronunciare il proprio nome Sartori mi parlò di un certo romano o romeo non distinguevo bene e aggiunse di essere morto a causa di un incidente aereo per circa un mese continuavo a sentire questa voce mentre si ripeteva il fenomeno del giradischi succedeva sempre quando ero sola nessun altro in casa ha potuto verificare la realtà di quanto stava accadendo allora ingenuamente pensando che questo personaggio fosse vicino cominciai a cercarlo nei cimiteri di tutta la mia città per un mese intero girai alla ricerca di una tomba che portasse questo nome Sartori era come se una forza interiore mi costringesse ad andare non mi rendevo conto di cosa sarebbe potuto succedere una volta che avessi individuato quella tomba ma dovevo cercare avevo paura di comunicare quanto mi accadeva ai miei genitori perché ero sicura che non mi avrebbero creduto e comunque non avrebbero potuto aiutarmi io invece ero molto coinvolta in questo evento e per tutto quel mese non sono riuscita a fare altro in seguito non ho sentito più la voce e quindi mi sono tranquillizzata ho smesso le mie ricerche e ho ripreso a studiare intensamente e sono riuscita a diplomarmi dopo la mia vita è ripresa normalmente se così si può dire mio padre purtroppo era sempre malato io l'ho visto sempre malato da quando sono nata ho dovuto darmi da fare e ho cominciato ad insegnare musica e pianoforte in alcune scuole private mi sono sposata con un altro musicista all'inizio ero convinta di amarlo intensamente ma poi siamo diventati solo buoni amici sono andata ad abitare con lui stavamo lontani spesso durante la settimana perché il lavoro sia suo che mio richiedevano spostamenti continui e quindi diventava necessario alloggiare fuori casa ciò nonostante a me piaceva insegnare e viaggiare per cui mi sentivo bene sono passati alcuni anni ormai avevo completamente dimenticato quanto era successo nel 1988 poi ho incontrato Giorgio era su un treno alla stazione centrale di Milano il treno era deserto c'erano solo due posti prenotati il suo e di fronte il mio in realtà io non avrei dovuto essere là tornavo a casa dopo una visita ai miei solo pochi giorni prima erano venuti loro da me ma non mi avevano trovata per un impegno di lavoro imprevisto sarei dovuta rientrare di venerdì ma un'altra circostanza mi costrinse ad anticipare la partenza così partì di giovedì quel giovedì dunque mi trovavo là seduta in treno con Giorgio di fronte appena lui mi guardò anch'io mi misi ad osservarlo e quando incontrai i suoi occhi gli lessi la mia vita futura ribadisco che dal 1988 avevo completamente rimosso quella voce e non avevo più minimamente pensato a quell'episodio fissando Giorgio negli occhi ho avuto la certezza l'intima certezza irrazionale pazza ma la certezza che non sarebbe finita lì lui quando ne abbiamo parlato disse di non aver provato la stessa sensazione ma affermò che allora stava vivendo una vita grigia aveva come perso i recettori della sensibilità si trascinava insomma in treno la prima cosa che mi disse rivolgendosi a me ad un certo punto fu è diretta Udine sì risposi anch'io e ci mettemmo subito a parlare sono scaturiti grandi discorsi su grossi argomenti come pena di morte sì pena di morte no aborto sì aborto no Dio c'è Dio non c'è e così proseguendo poco prima di arrivare a destinazione lui mi favorì il suo biglietto da visita io non gli idea di nulla ma lo presi e lo tenne in mano scendemmo insieme dal treno e rimasi ad osservarlo mentre lui usciva dalla stazione lo vedi salire a bordo di una fiat punto amaranto con la quale la moglie era venuta a prenderlo in stazione io invece chiamai un taxi ricordo molto bene il momento in cui infilai la chiave nella toppa della serratura di casa tenevo ancora tra le mani il suo biglietto da visita accesi la luce dell'ingresso e andai verso la finestra guardai e rilessi a mezza voce il suo nome ogni volta che mi avvicino ad una finestra penso a grandi cose rifletto mi ascolto intimamente in quel momento sentivo strane vibrazioni avvertivo che qualcosa era cambiato che la mia vita era una svolta proprio quella mattina mentre mi trovava ancora dai miei avevo spedito una cartolina a Silvio mio marito dicendo Silvio sento che la mia vita ha un'evoluzione sento che molto cambierà e succederà qualcosa di grande è stupendo ma nello scrivere ciò la mia convinzione era che fosse la storia con Silvio ad avere una svolta che si trattasse di un avvertimento che riguardava il mio rapporto con lui già da qualche giorno avevo la percezione di un cambiamento imminente però quando lì alla finestra pronunciai a mezza voce il nome e il cognome di Giorgio capì immediatamente la direzione nuova la sai passare una settimana continuando a provare dentro di me strane vibrazioni ed una attrazione particolare verso Giorgio fu così che mi decisi a telefonargli lui era dirigente in un'industria lombarda ci demmo appuntamento ad Udine e ci incontrammo nel fine settimana la domenica uscimmo insieme salimmo in auto sul Carso dato che avevamo scoperto di amare entrambi quei posti era estate si recammo dapprima ad Opicina ad ammirare dall'alto il travolgente panorama di Trieste che degrada sul mare era una giornata luminosa di sole si vedevano lontano all'orizzonte la Slovenia e la costa estriana mi portò a pranzo in un piccolo ristorantino rustico dove mangiammo selvaggina e bevemmo vino friulano era molto gentile e pieno di attenzioni io mi abbandonavo lentamente a lui e mi sentivo protetta poi percorremmo una stradina che si inoltrava nel bosco e a un certo punto proseguimmo a piedi per sentieri tra gli arbusti sostammo dopo un po' stanchi e sudati io ero stremata senza fiato lui era più abituato alla fatica distraiamo sull'erba ogni tanto il terreno roccioso si slargava in un piccolo spiazzo erboso ci trovammo soli isolati dal mondo il tempo si era come fermato e solo una natura selvaggia ma amica ci circondava ci siamo guardati a lungo negli occhi a cercare di capire il desiderio dell'altro lui mi teneva la mano ed io la stringevo con forza avvicinò le sue labbra alle mie e le poggiò sulla mia bocca io ebbi un fremito sentii di desiderarlo immensamente aperci la bocca e ci baciammo con passione mi spogliò delicatamente i vestiti leggeri scivolarono a terra in un attimo mi ritrovai completamente nuda al suo fianco mi sentii guardata con desiderio in ogni centimetro della mia pelle mi accarezzava con le mani sudate e le sue dita fremevano e sembravano parlare io mi eccitavo sempre più nel sentirlo sospirare facemmo l'amore a lungo con passione ripetutamente mi ricordo di aver avuto più di un orgasmo ed è stato travolgente il suo corpo atletico robusto nonostante l'età trasmetteva un brivido di forza e sicurezza ero desiderata amata goduta in quel momento avrebbe potuto fare di me ciò che voleva dalla settimana successiva Giorgio non usò più il treno per recarsi al lavoro bensì l'automobile aziendale su cui portava anche me l'ho seguito a Milano dove mi sono stabilita ho trovato sistemazione in una piccola pensione partivo tutti i giorni e tornavo il giovedì finché lui non decise di fingere altri impegni che lo tenessero a Milano un giorno di più per stare con me Giorgio però si sentiva tremendamente in colpa con la moglie una professionista di Udine mi diceva pecco amo peccare non lo vorrei ma mi piace peccare sono sicura che lui viveva una sofferenza infinita il nostro non era un rapporto patinato televisivo in cui si mostrano amanti che scopano sempre come pazzi lei mantenuta lui scemo totale no non era per niente così però io soffrivo come una bestia e provavo una cozzaglia di passioni ero posseduta da gelosia senso di possesso solitudine disperazione follia lui diceva non lascerò mai mia moglie amo mia moglie queste parole per me erano una freccia conficcata nelle carni passò un anno e mi portò a visitare l'azienda dove lavorava quando entrai nel suo ufficio lui si sedette alla scrivania ed io rimasi in piedi ad osservare fui subito attratta da un modellino di idrovolante un Marchetti S55 del 1933 appoggiato come soprammobile sulla superficie della sua scrivania tutto era ordinato e sobrio nell'ufficio e così dopo anni che avevo rimosso la voce mi ritornarono dentro le parole lui si chiama Giorgio allora cercai di parlargli e di raccontargli quello che mi stava succedendo lui però si sforzò di dimostrarmi che la mia era solo autosuggestione che ero troppo innamorata e che l'amore mi faceva sragionare mi rimproverò di usare simili strumenti per forzare l'andamento della nostra relazione e mi incitò a non essere ingenua questo fece crescere in me la sofferenza non avrei mai adoperato tali argomenti per legarlo e non riuscire a condividere questa esperienza mi faceva sentire lontana da lui ciò nonostante interpretai il segnale come una indicazione del destino e in cuor mio sentii rinnovarsi dentro di me la volontà di resistere ero combattuta da due inclinazioni antagoniste una quella razionale voleva farla finita con questa situazione che mi procurava tanta sofferenza l'altra mi invitava a continuare tutto sopportando mi ritengo persona sincera che non sa vivere nell'ambiguità ma ero schiava dell'amore che provavo non ero stata io a scegliere l'amore ma l'amore a scegliere me e quel giorno ne avevo ricevuto una prova ulteriore per cui mi proposi di continuare a seguirlo nonostante tutto saltualiamente la moglie si recava all'estero per lavoro e allora Giorgio mi portava con sé in Istria a navigare arrivò un'estate dopo tre anni che noi continuavamo ad essere amanti nonostante i miei tentativi di regolarizzare il rapporto e Giorgio decise di partire per una vacanza in barca con la moglie sarebbe stato lontano un mese non mi disse dove era diretto io sarei rimasta tutto il tempo da sola era per me il periodo peggiore ma non potei ostacolare la sua decisione prima di partire mi lasciò come ricordo un piccolo diario in cui lui aveva riunito racconti scritti durante i suoi viaggi per mare a cominciare da quando era giovane in esso citava piccole storie di personaggi che aveva conosciuto personalmente e città che aveva visitato nel corso delle sue crociere vagabonde per l'Istria e l'Adriatico restai qualche giorno sola e spaesata la mia mente era in continuo subbuglio all'improvviso come una fulminazione sentii che dovevo assolutamente assolutamente dovevo recarmi in Dalmazia in quel periodo non avevo un soldo quanto guadagnavo mi bastava appena per le spese di affitto e per il mangiare non avevo neppure l'auto chiese ad un'amica di accompagnarmi e di prestarmi la macchina spiegandole che dovevo assolutamente andare che per me era di importanza vitale c'era nel mio intimo quella spinta irresistibile che mi costringeva a fare ciò che intuivo necessario come se ne andasse della mia vita l'amica accettò e stabilimmo che avremmo diviso le spese ci organizzammo rapidamente alle 6 del mattino partimmo e alle 20 dello stesso giorno già stavamo a Ragusa portai con me Tommy il mio cagnolino che ha un modo singolare di abbaiare e che Giorgio conosceva bene avevamo programmato la mia amica ed io di sostare qualche giorno a Ragusa e visitare la superba cittadina per poi risalire lentamente la costa ma la mia amica fu impressionata negativamente dai luoghi o meglio dalla gente piccoli inconvenienti con i locali l'avevano convinta a voler rientrare quanto prima di fronte alle sue insistenze io le proposi di lasciarmi là da sola io dovevo rimanere avrei trovato qualche mezzo autobus o autostop per rientrare lei decise di non abbandonarmi per cui ci accordammo con un compromesso avremmo dimezzato il tempo di permanenza il giorno della partenza mi recae in un supermercato per fare provviste per il viaggio bibite e panini improvvisamente mi cadde nel carrello da non so dove una cartolina con le figie di un cane dalmata io credo a certe cose ed un brivido mi percorse da capo ai piedi perché lo interpretavo come un segno mi sono detta vado proprio in Dalmazia così partimmo e il 5 agosto arrivammo a Spalato qui sostammo e ci proponemmo di pernottare lasciamo l'auto ed entrammo nella città vecchia che si raccoglie intorno al porto camminando sbucammo in una piazza su cui s'affacciano caffè con tavolini all'aperto ad uno di questi stava seduto un uomo solo vestito in modo un po trasandato camicia a fiori e pantaloncini corti stropicciati barba lunga incolta non giovane capelli brizzolati stava bevendo una birra probabilmente non la prima ai suoi piedi era accucciato un cane d'almata lo guardai e tirai dritto continuammo nella nostra passeggiata alla ricerca di un posto dove pernottare ma curiosi di osservare quel paese specie nell'ora quando sull'acqua si riflettono gli ultimi raggi del tramonto ci fermammo a chiedere informazioni ad una signora parlavo croato con lei quando ci venne incontro l'uomo del cane che si avvicinò e rivolgendosi a me in italiano disse la porto io se vuole scopersi più tardi che aveva origini italiane da parte di madre e croate da parte di padre si presentò e disse di chiamarsi Goran si offerse di farsi da guida accettammo e con lui entrammo in una piazzetta romana detta del peristilio percorrendo un corridoio che conduce dai sotterranei ad un grande cortile al centro della cittadella gli appartamenti privati dell'imperatore si spiegava sono andati distrutti durante la seconda guerra mentre le cantine sotterranee ospitano oggi esposizioni artistiche mi ricordai che proprio la sera prima avevo letto uno dei racconti dal diario che mi aveva dato Giorgio prima di partire come ero solita fare ogni notte prima di addormentarmi raccontava di un bambino povero che vendeva conchiglie e a cui Giorgio aveva regalato una lattina di coca cola questi era Goran Goran mi disse ti siamo incontrati perché ho qualcosa da dirti io intanto accarezzavo il suo cane e Tommy il mio bastardino geloso si mise ad abbaiare fortissimo nel suo modo particolare gli raccontai perché mi trovavo lì gli parlai di Giorgio e della mia disperazione e Goran in tutta risposta niente succede per caso mi disse proseguimmo la visita e salimmo sul campanile del Duomo Romanico restaurato circa un secolo fa da qui mentre il nostro sguardo si perdeva nel vuoto fino all'orizzonte Goran mi disse di avere il brevetto di volo allora io gli chiesi tremante se conosceva un certo Sartori e lui dopo aver riflettuto un po' mi rispose di no certo che no ribadì è morto ha volato in Dalmazia nella prima guerra mondiale e piansi avevo capito tutto io ero per Giorgio ma cosa fare non sapevo darmi una risposta mi convinsi che dovevo resistere avere fede scendemmo dal campanile e ritornammo tutti nella piazzetta del peristilio mentre ancora piangevo disse a Goran che avvertivo la presenza di Giorgio come se fosse lì accanto a me che lo sentivo terribilmente vicino e che non vedevo l'ora di riabbracciarlo per dirgli che Sartori esisteva veramente e che non era solo frutto della mia immaginazione o della mia suggestione mi accorsi allora che Giorgio era veramente là aveva sentito abbaiare Tommy e si era avvicinato per verificare se era proprio lui non si fece vedere perché era in compagnia della moglie ma mi riconobbe e dopo avermi osservata per un po' si allontanò mi confermò più tardi che era venuto in barca in Dalmazia e che quello era l'unico giorno in cui era sceso a terra dall'inizio della crociera un'avaria al motore lo aveva costretto ad ormeggiare a spalato si trattava di un fuori programma io non sapevo che era lì lui mi vide piangere ma non capì il motivo e non avrebbe mai potuto immaginare che avevo una grande rivelazione per lui ora mi dice che da quel giorno non ha più potuto mentire a se stesso e non confessare che io ero per lui anche lui è rimasto sconvolto Goran mi raccontò ancora di avere studiato a Rovigno di conoscere Giorgio e di avere con lui un'amicizia in comune un altro personaggio a cui Giorgio accennava nel diario un certo professor Perlizier docente universitario di storia moderna Goran lo aveva sentito al telefono solo due giorni prima e sapeva che ora si trovava ad Asiago poi si oscurò in volto è ammalato disse gravemente ammalato a questo punto io mi resi conto che avevo raggiunto lo scopo del mio viaggio in Dalmazia ritornammo a Milano la mia amica e Dio io mi precipitai subito a Roma al ministero dell'aeronautica per avere notizie di Sartori qui mi informarono che Sartori era stato un valoroso pilota della grande guerra scoprì che aveva volato sul cielo di Spalato che era nato a Roana di Asiago lo stesso giorno di mio padre e che era morto a Schiranna sul lago di Varese il 3 agosto 1933 collaudando un idrovolante Ermacchi in circostanze rimaste misteriose che era un collaudatore dell'Isotta Freschini era stato seppellito il 5 agosto 33 ad Asiago da allora ogni anno mi recco al cimitero di Asiago per deporre un fiore sulla sua tomba nel 1997 si stava festeggiando il centenario della sua nascita ed il suo viso campeggiava in 100 manifesti esposti in tutto il paese scoprì anche che l'aeroporto di Asiago porta il suo nome qui Paolo ultimò il suo racconto che esternò di getto senza smettere per un attimo di scrivere tanta era la commozione che guidava le sue dita sulla tastiera del computer credi che sia pazza chiese a Nicola no rispose lui ma forse ti è ritrovata ad essere come una pedina in un gioco più grande di te un gioco ad incastro che qualcun altro dirigeva dall'esterno tirando nei fili come si fa con una marionetta lei confermò questa osservazione non so cosa ci aspetti dopo la morte disse ma quello che mi consola è che esiste un qualcosa esiste esiste davvero non chiedermi cosa ma esiste penso che tutti noi abbiamo un compito riuscire a leggere certi segni che ormai la nostra civiltà ha dimenticato magari in altri tempi uomini che vivevano più a contatto con la natura riuscivano ad interpretare meglio questa semantica oggi nonostante i nostri favolosi mezzi tecnologici di comunicazione e le nostre conoscenze abbiamo perso questa capacità io comunque ho lasciato che il mio cuore leggesse nitidamente questi segni tutto qui ho dato ascolto alla parte più irrazionale di me e ho agito di conseguenza il dramma per me è stato questo combattimento tra ragione e istinto il chiedermi sempre cosa stavo facendo e perché tante volte non ero io a scegliere una determinata direzione ma mi ci trovavo come guidata indotta non so nemmeno se fossi preda della mia disperazione o se in me esistesse un disegno come un rifiuto del mio libero arbitrio sta di fatto che tutti questi segni si sono incastrati tra loro come in un puzzle alla perfezione fino a sconvolgere le mie sicurezze non ho più avuto da allora tali percezioni ma ora Giorgio si è convinto che io sia una sensitiva a me comunque piacerebbe immensamente vedere il mio pilota ogni tanto di notte quando non dormo guardo il soffitto perché Sartori quando parlava dal giradischi mi aveva detto io ti sto guardando sono proprio sopra la tua testa sono sotto il soffitto sì se si facesse ancora vivo mi piacerebbe vederlo e non avrei paura no lo sento buono protettivo so che mi vuole bene che mi segue e si interessa a me salutò Nicola e uscì dalla chat sapeva in cuor suo che almeno nei prossimi giorni non si sarebbe connessa stava per iniziare il suo viaggio in Francia e ora si voleva concentrare su quello si sentiva però sollevata da quella specie di confessione era riuscita a vomitare addosso a qualcuno tutto questo materiale che da troppo tempo si teneva sepolto dentro e che spingeva da ogni anfratto del suo corpo per emergere quasi come un'esplosione in cui anche lei poteva scoppiare ora era più leggera infinitamente più leggera e in questo stato quella sera andò a dormire guardando il soffitto prima di addormentarsi passarono in fretta i tre giorni che la separavano dalla partenza assorbiti nei preparativi quando fu a Percasson prima tappa fu sorpresa da qualcosa di straordinario la Citele si mostrò subito in tutto il suo splendore una foresta di mura e torri un'isola che emergeva dal passato e lo ripresentava senza tempo la storia le si affacciava carica di tanti messaggi non era più lei sola a confrontarsi con la propria quotidianità a cercare di razionalizzare la propria vita ma la storia collettiva con la S maiuscola la risultante del percorso umano nei secoli segnato dalla necessità di inventare forme di convivenza collettiva sempre nuove era in presenza di una sublime testimonianza di questa storia una finestra per guardare a ciò che stava al di là nel percorso umano e alla evoluzione della civiltà il Medioevo risorgeva qui per lei dalle proprie ceneri con personaggi verità misteri qui nel 1209 i catari avevano la loro comunità e si proponeva la ricerca di una fede più autentica quando la cittadella venne conquistata e attribuita ai templari guidati da Simone de Bonfort da qui questi verrà a sua volta cacciato nel 1224 l'anno precedente il papa Gregorio IX aveva creato l'inquisizione e attraverso di essa ha inventato uno strumento nuovo di persecuzione dei catari che sarebbero stati definitivamente esterminati dopo l'assedio e il crollo di Menseguir forse il Graal era stato proprio prima nascosto nei sotterranei di questa fortezza si palpava il mistero del sangue di Cristo sangue raccolto sangue incarnato in una figlia vera nata da un rapporto carnale tra il figlio di Dio e una figlia dell'uomo un ponte che scavalca i secoli e il Mediterraneo porta a Gerusalemme al Tempio di Salomone alle origini della civiltà cristiana e mistero trovava un collegamento tra il mistero della sua vita e quella voce che ad un tratto aveva udito e che l'aveva assegnata e il mistero del Cristo e della storia quanto era ancora lontana la verità vera e quanto l'ignoranza l'intolleranza l'avevano nascosta combattuta coperta resa indicibile allo stesso modo lei non poteva manifestare il suo segreto perché sarebbe stata creduta pazza ma le tracce non si cancellano mai del tutto riaffiorano come le ossa sepolte nel deserto come i relitti nascosti in fondo al mare e con paziente lavoro di restauro rivelano impensabili meraviglie meraviglia ecco scopriva il piacere della meraviglia e tutto il resto del suo viaggio da Chartres fu un susseguirsi di meraviglie a Chartres entrando nella cattedrale fece l'esperienza di collocarsi proprio nel punto energetico ideale di congiunzione tra la terra e il cielo dove da secoli gli uomini venivano a incontrare Dio sotto aspetti diversi dalle divinità pagane associate alla potenza della natura a quelle cristiane a Combré ebbe modo di percepire l'esile di scrimine tra sonno e veglia tra sogno e realtà la realtà di un io che si analizza e si interroga la centralità di una coscienza provocata dalle sensazioni la grazia celeste del ricordo e l'urgere gratificante delle memorie d'infanzia l'oscurità come spazio misterioso inaccessibile e infine il posto centrale che occupa nella vita la malattia scoprì che mentre cresceva in lei il piacere della meraviglia assaporava anche quello di stare con gli altri di fare nuove conoscenze di interessarsi a ciò che prima passava inosservato o la attraversava come se fosse fatta d'aria la routine stava diventando curiosità curiosità per tutto ma soprattutto per la vita il suo manifestarsi e divenire al suo ritorno a Milano aveva raggiunto una consapevolezza nuova e un'ottica diversa attraverso cui inquadrare il futuro dopo la stanchezza del primo giorno che trascorsi a letto a fantasticare e a leggere avvertì ancora il bisogno di condividere la sua esperienza ma Giorgio era sempre lontano la stava aspettando lei lo avrebbe raggiunto tra pochi giorni e sarebbero usciti ancora una volta insieme per mare ma non era questo che desiderava in fondo sentiva che lui non avrebbe partecipato di quanto lei ora stava provando quando rincontrò Nicola in chat non era più quella di prima sai Nicola stanno succedendo cose nuove in me spero positive per arrivare alla positività bisogna sempre attraversare percorsi a volte accidentati stavvertendo emozioni nuove è una cosa lunga da dire è difficile ma la solitudine mi ha posto in una dimensione che avevo accantonato da anni non di libertà fisica nel senso che non credo nella libertà di fare sempre ciò che si vuole alla fine stanca e lascia una solitudine profonda mi riferisco invece a una libertà mentale e devo dirti che Giorgio non mi sta capendo per nulla finora ho lasciato tutto per lui l'ho adorato ed è stato per tutti questi anni l'oggetto del mio amore incondizionato ma sto vedendo cose che non mi piacciono lo sto percependo per la prima volta così com'è veramente credo di averlo amato come un cieco può amare cioè ciecamente avvertivo il sole il suo calore però ero cieca la vita intorno a me continuava sempre ma mi accorgo che l'avevo chiusa fuori dalla mia portata mentale per donarmi completamente a lui sai cosa sta succedendo adesso gli ho scritto un messaggio che la nostra vita ora sarà nuova perché saremo noi ad essere nuovi e lui come sempre non mi ha nemmeno risposto ho sempre cercato io l'ho amato così l'ho scelto ed ero consapevole del suo carattere ho commesso l'errore di averlo seguito troppo ho vissuto anni senza spazi personali lui mi ha sempre fatta sentire in colpa ogni volta che cercavo di realizzarmi in una nuova esperienza da qualche mese gli manifestavo il mio bisogno di vivere volevo finalmente una vita normale in un rapporto di coppia al cui interno ci fosse posto per spazi individuali lui si è sempre contrapposto a questo stasera sono andata dai miei sono andata a passeggio e poi l'ho chiamato io al telefono lui non prende quasi mai l'iniziativa con me mi ha parlato della pesca di oggi mi ha riferito che ha catturato dei polpi che c'era una bella luna e altre menate poi mi ha chiesto dove mi trovavo ti ho cercata a casa ma non rispondeva nessuno quando ha saputo che sono dai miei mi ha accusato di essere sempre in giro fai pure quello che ti pare mi ha detto mi ha risposto che non posso starmene sempre a casa a guardare i muri in sua assenza e lui ha insistito nel dirmi che dovrei però dargli la parvenza di concordare le mie scelte con lui testualmente insomma lui dovrebbe sempre sapere prima e autorizzare tutto ciò che faccio allora gli ho chiesto il motivo della telefonata mi ha risposto che lo ha fatto per abitudine per senso del dovere a che mi sono incavolata e ho risposto di non avere nessun dovere verso di lui io scelgo di vivere per te gli ho detto ti accetto per come sei sapendo che tu ami il mare tu hai tutto il diritto di vivere ciò che ti piace non sono gelosa di questo anzi sono contenta quando vedo che tu sei contento Nicola non è la prima volta che capitano questi alterchi tra noi ma ho raggiunto un punto di straripamento lui non ha chiesto nulla di me non mi dici nulla gli ho detto Giorgio voglio la sostanza delle cose non la parvenza dimmi le tue emozioni altrimenti perché mi telefoni dimmi io ti amo io voglio che siamo nuovi voglio positività io ho tanto da dare e sento di avere anche il bisogno di tanto amore dimmi qualcosa di bello di brutto ma dimmi qualcosa e lui in questo momento non ho nessuna emozione mi ami si ti amo ha detto indifferente con un tono neutro come per abitudine ma io odio l'abitudine sai cosa pensa lui dei cambiamenti mi ha detto io tornerò esattamente come mi hai visto prima di partire ma come può affermare questo dico io cambiamo ad ogni istante da ogni anno gli parlo delle mie esigenze di vivere anche un lavoro mio e uno spazio ricreativo individuale ma lui non accetta i cambiamenti Nicola ho capito che tu pensi che sia per causa dell'età ma io credo che questo non basti a spiegarlo è il carattere sì l'età può avere un suo peso ma un carattere estroverso reagisce con modalità completamente differenti lui è sempre stato sordo dice di lasciarmi libera ma può imitar paleali sì è proprio così e fa di tutto per farmi sentire in colpa anche solo se chiede un po' di spazio per me io vorrei che lui mi amasse come io lo amo non intendo che lui sia come me che muoia dal desiderio per me ma non mi desidera più lo sento ti giuro lo sento e l'ho capito stasera gli ho dato troppo pensando che sarai stata adorata anch'io da un po' di tempo sai cosa mi dice cercatene un altro in questo mese e mezzo di solitudine ho trovato la possibilità di non essere distratta da lui e non essere solo a sua disposizione e ho deciso questa volta non mi farò più abbindolare dal mio sentimento non può andare avanti se continua così lui mi dice siamo lontani è vero siamo molto più lontani quando siamo fianco a fianco sul divano io gli parlo e lui gira la testa altrove dicendo che le mie esigenze sono cavolate lui non mi desidera più è sempre stato un tipo introverso ho sempre fatto una grande fatica ad interpretare anche un solo gesto uno sguardo mentre lui non ha mai fatto nulla per me stasera per la prima volta mi sono ricordata di quando mentre ero ancora la sua disperata amante lui non voleva dormire con me e dopo aver fatto l'amore diceva di amare sua moglie io là da sola mi dovevo pagare l'albergo per la sua coerenza una notte in cui avevamo appena fatto l'amore mi disse cinque minuti dopo che era ora che mi alzassi perché doveva dormire dovevo andare in camera mia io innamorata pazza pazza mi invece a piangere e lui mi liquidò con poche frasi di circostanza con mezzo sorriso formale tipo azienda e mi spinse delicatamente fuori in un primo momento andai in camera mia mi buttai sul letto cercai di raccogliere le fortissime emozioni che provavo serrai i pugni misi la testa sul cuscino e piansi soffocatamente a singhiozzi non riuscivo a calmarmi e allora dopo un quarto d'ora uscii in punta di piedi sul corridoio dell'hotel eravamo sullo stesso piano e accostai gli orecchi alla sua porta non per oligliare ma per trasmettere in qualche modo la mia presenza mi accorsi che lui stava russando a quel punto rimasi in muta c'erano in me tutte le emozioni dell'universo poi trovai il coraggio e bussai pian piano lui si svegliò venne ad aprire notevolmente arrabbiato per essere stato svegliato domani mattina mi devo alzare presto vai in camera tua io non voglio fare la vittima né piangermi addosso tutt'altro ho voglia di vivere ma in quel momento forse ho toccato il culmine del mio dolore stasera al telefono la sua voce aveva lo stesso identico tono di quella sera molti anni fa l'ho intuito all'improvviso era una rama taglientissima che mi è entrata dentro lui ha sempre fatto così è così ma stasera per la prima volta ha toccato il fondo non mi stima vedi non è necessario secondo me condividere gli stessi gusti ma le stesse emozioni sì ognuno può fare anche e sottolineo anche cose diverse ma se due persone si amano esiste il rispetto dell'altro e lui non mi rispetta per le sue cose c'è sempre ascolto e spazio per le mie fosse anche solo un vestito un semplice caffè no dice che sono diversa per contrapposizione ma è lui che vuole essere sempre al centro di tutto quando parla con gli altri dice povera paola l'ho abbandonata per la barca con me invece fa la parte del trascurato e quando gli manifesto la mia voglia di andare ad un concerto non viene mai perché dice che bisogna risparmiare è giusto risparmiare ci sono gli avvocati che ancora chiedono soldi dato che la moglie gli ha fatto pagare le spese della separazione e lui con lei si è arreso subito mentre con me fa l'inferno è giusto risparmiare ma il tremendo periodo economico che c'è stato quando la sua ditta è fallita ora sta per finire io so che questo è un alibi prova ne è che stasera non c'erano problemi di soldi bastava che mi chiedesse oh sei là che bello hai fatto bene tesoro mio sei sola che tempo fa come ti senti tesoro ti amo ti desidero sto capendo che quando io sono felice lui ne è geloso ti giuro non sono paranoica quando piango quando mi vede debole allora arriva a consolarmi mi coccola vuole fare l'amore con me ma io non voglio più piangere voglio ridere se sentissi parlare lui ti direbbe che io sono la pazza che non è vero quel che dico io mi sono analizzata e stra analizzata mi accorgo che cerca dei pretesti per litigare e io non voglio litigare sai quanto ho faticato per il corso di informatica mi ha fatto sentire in colpa sporca contrapposta alla famiglia io e lui non abbiamo figli io sono sterile siamo una coppia non una famiglia a proposito di figli lui è felice di non averne con me ha sempre detto che non sono abbastanza matura ho pianto moltissimo per questo ma lui sbuffava e diceva che non ne voleva sapere avrei tanto voluto comunque un figlio ma lui non ne ha mai sentito l'esitenza quando ne parlavo si investia l'iva io non voglio ingannare nessuno non mi va sarebbe peggio così per lungo tempo abbiamo rimosso il problema eppure io sono sicura del mio amore ma lui lo sta uccidendo se continua così è uno stillicidio goccia dopo goccia se lui è felice lo sono anch'io mi piace saperlo realizzato e felice perché penso possa contribuire alla coppia ma lui non si muove non si è mai mosso e non si muoverà sai che quando gli dico così si incazza mi dice di aver lasciato la moglie per causa mia e che io non lo capisco e penso che non abbia fatto nulla no lui ha lasciato la moglie per scelta sua ma mi risponde che pensava che avrei continuato a seguirlo anche in barca e che avremmo potuto vivere per mesi anche otto mesi l'anno sulla barca soggiornando in posti miti quando qui è inverno e questo mentre io gli parlavo del figlio che non avremo mai l'ho seguito da quando viviamo insieme tutti gli anni sulla barca quest'anno lo raggiungo e lui mi dice di fare quello che voglio ma intanto me la fa pagare con la sua indifferenza stasera gli ho chiesto di dirmi qualcosa riguardo alle sue emozioni e mi ha risposto di non averne ma non solo di provarne di più intense dove sta ora quando non è con me dice di vedere finalmente la luna di stare bene e di non pensare a nulla io allora gli chiedo di non chiamarmi per pro forma ma per la sostanza chiamava per formalità anche la moglie ma con un'enorme differenza a chiamare era sempre lui mi spaventa io gli vado sempre incontro e quando vedo in lui un malessere mi vado vicino e finisco col piangere per lui lui non piange piango io per lui io non l'ho mai visto non dico piangere ma preoccuparsi per me per quello che sento dentro forse quando piango per lui io piango anche per me stessa sta nascendo in me un immaginario nuovo in questi ultimissimi tempi il pensarmi accanto ad un altro Giorgio nonostante tutto lo amo ancora non si possono buttare via le persone solo perché non ci capiscono ma l'amore è un'altra cosa gli dico in continuazione che quella che lui chiama contrapposizione è solo la mia voglia di misurarmi non con lui ma con me stessa con la vita io lo amo come potrei careggiare con lui non è il mio avversario è l'oggetto del mio amore se fosse un assassino lo giustificherei e lui mi dice di smetterla perché gli provoco mal di testa con queste cavolate se invece sto zitta va tutto bene straordinariamente bene terminato questo sfogo salutò Nicola uscì dalla chat e non lo incontrò più il giorno seguente sarebbe partita per la Croazia per raggiungere Giorgio qualcosa dentro di lei però le suggeriva che era tornato il momento di interpellare il suo angelo e come attratta da una forza magnetica in un tiepido pomeriggio si trovò a risalire i tornanti che conducono al cimitero di Asiago Romeo era sempre lì col suo berretto antico di aviatore e il suo sguardo buono ma perché l'aveva ingannata dicendogli che Giorgio era per lei procurandole quella gioia che si stava trasformando ora in un'allogorante consunzione cosa fare adesso con lui e il suo progetto di matrimonio ormai in fase di realizzazione ma che matrimonio sarebbe stato da tre anni ormai Leonardo e Paola vivono insieme Paola non ha più ritrovato Nicola in chat non si è più sposata e non si è più rivista con Giorgio ora convive con Leonardo ogni tanto ripensano al loro primo incontro e al giorno in cui Paola risali sull'altipiano si ritrovarono e fu l'inizio di una nuova vita insieme fu proprio a quel tavolo nello stesso caffè di Asiago si riconobbero immediatamente e parlarono parlarono a lungo un fiume di parole che da tanto tempo era pronto a straripare in entrambe le parti nessuno dei due sopraffece l'altro e il giorno seguente furono ancora insieme nel piccolo cimitero sostarono davanti alla foto di Sartori per passare quindi sulla tomba che custodiva le spoglie mortali del professor Pellizier storico docente universitario uomo colto appassionato grande ricercatore e studioso era stato insegnante e quindi amico di Leonardo gli aveva trasmesso prima le conoscente storiche e poi la passione ideale quindi gli aveva chiesto collaborazione per allestire un piccolo museo della grande guerra a Lusiana in un paese dell'altipiano insieme avevano girato in lungo e in largo i luoghi teatro della prima guerra i ruderi dei forti i camminamenti i sentieri i resti delle trincee avevano ricostruito storie umane di personaggi attraverso i racconti di chi ancora ne conservava memoria numerose le loro pubblicazioni che si trovano ora in varie biblioteche e sono a loro volta oggetto di studio Paola si ricordò di questo nome Pellizier e di dove lo aveva sentito era stato proprio Goran quel giorno a pronunciarlo lo stesso giorno in cui aveva avuto conferma dell'esistenza di Sartori seppe poi un'altra cosa Leonardo era stato battezzato con un doppio nome Giorgio Leonardo Giorgio era il suo primo nome in onore del nonno paterno Leonardo il secondo in memoria di un avo materno che aveva allevato la madre orfana da piccola sin da piccolo lo avevano chiamato Leonardo anzi Leo era più breve ma ritornava il nome di Giorgio e la testa di Paola di nuovo mulinava niente accade per caso forse quel nome a cui aveva accennato Sartori ancora una volta allora sì Sartori non aveva lanciato in vano il suo messaggio la profezia dall'aldilà non era stata inutile lei aveva fatto bene a raccogliere il messaggio a crederci fino in fondo a non desistere dalla ricerca che tanto aveva sconvolto la sua vita ora sentiva che poteva avere fiducia nel futuro gli anni seguenti confermarono questa impressione finalmente si godeva la serenità di una vita normale era riuscita a trovare un lavoro di insegnante di musica in una scuola media statale e dava privatamente qualche lezione di musica con Leonardo si era sistemata in una casa confortevole ai piedi dell'altopiano da dove lui poteva continuare a svolgere le sue ricerche e a dirigere il piccolo museo della guerra non si annoiava durante i fine settimana e la stagione estiva passavano molto tempo in montagna qui godevano della compagnia di numerosi amici in fondo la vita era molto più semplice ora che molti punti oscuri si erano chiariti amava ricambiata un uomo che le aveva fatto posto nella propria vita e le offriva ascolto quando ripensava a quanto aveva passato provava tenerezza per se stessa per la propria ingenuità per la propria ostinazione ma non pentimento perché aveva dato retta al suo cuore lo sguardo ora poteva rivolgersi in avanti non più al passato la personale ricerca era conclusa almeno quella che l'aveva così pesantemente segnata altre ricerche non finiscono mai condivideva in pieno con Leonardo la necessità di ridar voce attraverso il ricordo a chi non aveva avuto il tempo o la possibilità di esprimersi perché stroncato troppo presto dalla storia Paola non dubitava più del suo amore e Leonardo era sereno insieme potevano finalmente guardare lontano